C'è sempre molta curiosità sui miei sistemi, su come stanno andando, su come li ho creati, quando li ho creati, da dove mi sono partite le idee. Allora oggi ho deciso di mettere insieme qualche decina di sistemi vecchi, il più vecchi possibili, che sono riuscito a trovare, a organizzare, senza perderci troppo tempo perché sono pigro, e ve li voglio mostrare, voglio spiegarveli, voglio raccontarvi un po' anche il processo di creazione, quando li ho messi live, che cosa è successo, che cosa non è successo, eccetera eccetera. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi e insegno come guadagnare sui mercati senza diventarne schiavi. Se ti piacciono questi frizzantissimi contenuti gratuiti, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e in descrizione, butta un occhio, sbircia, clicca, fai, perché ci sono i collegamenti ai miei percorsi. Puoi anche chiamare il numero verde gratuito 800 475 300. Detto questo, voilà. Questi sono i tre, fammi apparire anche a me, perché sennò mi sento ignorato. Sono tre workspace, che ho messo lì un attimino, ho messo quanti sono, 6, 12, 15, saranno 30, 45 sistemi, eh, qualcosa del genere, senza perderci troppo tempo, tra i sistemi più vecchi, tra i sistemi più croccanti che in generale sono riuscito a mettere insieme. Sono sistemi su future, su qualsiasi tipo di future, c'è un British pound, insomma tutte le categorie sono ben rappresentate. E io direi di partire da qua, con ad esempio l'esecutore. L'esecutore è un sistema BIAS su SP500, eccolo qua, solo long, che ha fatto particolarmente discutere e parlare, perché è un sistema solo long, su SP500, in out of sample da 4 anni, che va bene nel 2022, che è andato bene nel 2022, e nel 2020, insomma, fa abbastanza scalpore. 2020 positivo, diciamo intorno al 0, 2021 15.000, 2022 14.000. A un certo punto nel 2022 ha fatto questa sequenza pazzesca di stop consecutivi e sembrava si stesse iniziando a rompere. Se non sbaglio era intorno all'estate del 2022. Eccolo qua. Appunto, luglio, agosto e settembre. E in realtà no, semplicemente ne ha fatti tanti consecutivi, ma poi è tornato positivo. Io l'ho tradato per i primi sei mesi del 2022, però ha retto parecchio. Questo è il Baviera sul DAX, un intraday, un sistema intraday sul DAX, che ho costruito nel 2017, quindi quando ancora c'era la vecchia sessione del DAX, che poi è stata cambiata, che sta continuando a performare molto bene, molto bene, nel 2022 è andato molto bene, questo è l'annualità, quindi dal 2017, diciamo dalla seconda metà del 2017 l'ho creato, quindi partiamo dal 2018. Più 11.000, meno 8.000, più 29, più 21, più 25, più 4,5, poco più di 4 adesso. E out of sample sta andando molto bene. E l'average trade non è stato particolarmente inficiato da tutto. 440 dollari, sì, poi si tratta in euro, ma va bene, non faccio adesso la conversione, sennò si impazzisce tutta 3Station. 1.65 di Profit Factor, è bello robusto ed è talmente vecchio che l'ho costruito con il vecchio metodo, cioè con, diciamo, una versione primitiva del metodo scrocchiarello. Adesso lo scriverei in modo più pulito, diciamo così. Questo è il Soya Crepsis, che adesso sta facendo una bella virgoletta, ed è out of sample da qua circa, quindi di virgolette ne ha fatte una, due, questa è la, vabbè, tre, questa è la quarta, ma sta performando assolutamente molto bene, out of sample da una vita, con anche un buon percentuale di trade vincenti. Ed è un, siamo su Soya appunto, ed è un sistema che mixa il breakout e l'orario. Quindi ci sono varie tendenze orarie su Soya molto interessanti, molto croccanti, io le ho unite alla tendenza di Soya di partire per brevi trend. E quindi molto interessante. Questo è sempre multi-day. Quelli intra-day che ho ve li dico subito, perché sono pochissimi, questo è il Baviera, ma se ci fossero altri poi ve lo dico subito senza alcun problema. Questo è lo Stardust, su oro, di cui vi voglio parlare perché è un sistema difficile, strano. Guarda qua. Tanto per dirne una, ha un profit target di 1000 dollari e uno stop loss di 3000 dollari. Quindi il contrario di quello che dicono i trader discrezionali. Ed è particolare perché è un sistema forzato. Va reversal. Non c'è altro da dire. Sostanzialmente va reversal su oro, è un sistema molto particolare che ho costruito nel 2018, che non ho messo live per un sacco di tempo, adesso in particolar modo è live. Questo per dire che non sempre bisogna per forza costruire dei sistemi che sfruttino la natura principale di uno strumento finanziario. Certo, quella è la mia base, per carità. Parto da quello, è un po' tutta la base del metodo scrocchierello e ci semplifica la vita. Ma poi, una volta acquisita anche la competenza, avendo fatto esperienza, esperienza corretta, si può arrivare a fare anche sistemi più complessi. è chiaro che nel momento in cui abbiamo un sistema complesso dobbiamo anche validarlo in modo coerente col sistema complesso. Questo è un altro modo di dire, non è che possiamo validare tutti i sistemi allo stesso modo. Cioè, lo Stardust è diverso dall'esecutore, dal Baviera, che abbiamo visto prima. ma è molto interessante, ne sono molto contento. Vabbè, c'è lo Skyhook su Korn. Lo Skyhook è un sistema famoso, famosissimo. Abbiamo un po' fatto un rumore pazzesco quando ho presentato in Italia per la prima volta Skyhook. È un composer che ti permette di creare tanti sistemi diversi sullo stesso strumento finanziario o sui diversi strumenti finanziari senza scrivere codice. E fa per definizione sistemi molto robusti, quindi per carità, è veramente facile se ne parlo così. Oro Once. Questo tecnicamente non è intraday, però sta a mercato pochissimo, proprio poche ore. Quindi tecnicamente va overnight, ma è molto poco rischioso. E ragazzi, è pazzesco. Il 2022 fatto dal Once è pazzesco. L'ho tradato praticamente per tutto l'anno e non ha sbagliato un colpo. Cioè, guarda qua. Guarda qua. Il profit factor del 2022, cioè di tutto l'anno, è stato di 2,26. 2,26 di un intero anno. Tutto out of sample, ovviamente, perché questo è out of sample da... Guarda, ti direi almeno da qua. Almeno da qua. Ed è un bias. Ed è un bias. Ne sono molto orgoglioso, veramente. Poi cos'altro? Soia, wheat. Qua c'è ancora un po' di soia. Ah, questo. Questo. Sempre su SP500, quindi grandi problemi e pericoli nel 2022, ma ne è uscito assolutamente bene, perché ha fatto 13.000 dollari solo nel 2022, con un'efficienza non eccezionale. ma è un intermarket molto intelligente perché compra e vende SP500 in base a quello che fa il decennale, l'obbligazionario decennale americano. Quindi sfrutta questa correlazione molto forte che nel 2022 ha anche fatto fatica, però ha retto molto, 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 molto bene. Beh, questo non posso non farvelo vedere. Questo è un crude oil pivetta. Ecco, quando vedete dei sistemi del genere, vuol dire che avete visto sistemi veri. Il pivetta su crude oil, perché pivetta? Perché è un nome così strano per me. Perché era quando ancora chiamavo i sistemi in modo diverso, quindi è praticamente 2017. Questo sistema è out of sample probabilmente da qua. Ha fatto di tutto. Ha fatto un periodo di plateau, come si dice, no? Come i professionisti dicono. Cioè non guadagno, non perdo. Non guadagno, non perdo. Cioè sto lì. Poi ha fatto un periodo di run-up pazzesco. Vediamo se riesco a incasellarlo. È il 2020. Alta volatilità pazzesco. Poi dalla fine del 2020, dalla seconda metà del 2020, ha fatto un drawdown altrettanto pazzesco di 20.000 dollari. E poi da lì è tornato su. Cioè le ha vissute di tutte. E sono molto contento perché ha retto qualsiasi condizione finanziaria. Noi consideriamo che crude oil nel 2020 è andato sotto zero. Poi ha preso 130 dollari, poi è risceso a 70, il delirio. Eppure ha retto, è retto molto bene. Sono molto contento. Un altro su cui è successo l'ira di Dio è il Natural Gas. Questo è un sistema erbaluce, quindi sempre dal composer. E probabilmente è intorno a 2020 l'ho creato. Diciamo 2020. Quindi 10.000 dollari, 14.000 dollari, 13.000 dollari. E quest'anno ha anche iniziato molto bene. Sono molto contento. E vabbè, cioè ragazzi, non posso non parlarvi di questo. È lui? È lui! Meraviglioso. Questo è il sistema che da un anno e mezzo a questa parte mi piace di più. L'ho costruito nel 2018 o 19, non mi ricordo, ma comunque forse 18, parecchio tempo fa. Fatto sta che ha fatto 13.000 dollari, 28.000 dollari nel 2020, 28.000 dollari nel 2020, 20.000 dollari nel 2021 e nel 2022. Un sistema solo long su Nasdaq, no, non è solo long, chiedo scusa. Un sistema su Nasdaq, cosa può aver fatto? Ha fatto 15.000 dollari. E da quando Out of Sample ha addirittura migliorato la sua percentuale di trade vincenti. 69, 74, 72, 72. Che è superiore alla media, perché la media in 1051 trade è 64%. Quindi Out of Sample ha addirittura migliorato la sua percentuale di trade vincenti. Questa è la OOM, dal Composer a OOM, che ha tutta un'idea particolare. Come posso dirla senza dire troppo, perché sennò sfrutta ciò che succede a livello di prezzo in un determinato momento. Sono stato abbastanza criptico? Mi auguro di sì. Vediamo un ultimo, un ultimo, un ultimo prima di chiudere. Uh, questo, questo ragazzi, questo. Oh, poi continuiamo se vi va, eh? Cioè, commentate pure qua sotto se volete fare, se volete che io faccia altri video simili. Per carità, continuo senza alcun problema, non posso non parlarvi di questo. Linux, Hakuna Matata. L'Hakuna Matata sfrutta livelli diversi di ipercomprato e ipervenduto. È un composer anche qua, anche questo, senza scrivere codici, eccetera. Ma Out of Sample sta facendo il delirio. Probabilmente Out of Sample dal 2020. Facciamo che consideriamo solo due anni? Facciamo che consideriamo solo due anni. Più 14.000, più 12.000, più 2.000 nel 2023. Cioè, è un breakout che guadagna più del 50% delle volte. Cioè, ma, ma, è assù, è bellissimo, è veramente, ogni tanto mi sorprendo anche io e dico, porca miseria. Bravo a me. Vabbè, comunque, questi erano un po' dei sistemi, beh, c'è il soybean meal che vi volevo mostrare, c'è il franco svizzero, c'è l'euro scrocchiera. Vabbè, la prossima volta vi rimostro un po', se no vi diventa troppo lungo, ci annoiamo. Però volevo darvi un po' idea dei sistemi, di come invecchiano, di cosa vuol dire tradarli, di cosa vuol dire che lateralizzano, oppure che fanno il max strudale, ma poi tornano su. È un po' questo il bello di fare il trader. Link in descrizione per gli approfondimenti su come faccio io trading, oppure numero verde 800 475 300, vi auguro una splendida serata e noi ci vediamo su questo canale sabato pomeriggio. Ciao!